Se stai cercando un appartamento con due camere da letto, sala, cucina, due bagni, due balconi, garage, beh, rimani con me perché non te ne pentirai. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Siamo in via Nenni e qui si trova questo appartamento al piano primo in una palazzina di sole 4 unità con un ampio garage al piano terra di oltre 25 metri e una mansarda all'ultimo piano. L'appartamento è così composto. Abbiamo l'ingresso sul soggiorno con suo balconcino, una cucina abitabile con suo balconcino ed il camino che vedete alle mie spalle. Nel reparto note invece troviamo due camere da letto e due bagni entrambi finestrati ed entrambi con il box doccia. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!